Un poligono di tiro della criminalità in una scuola abbandonata a Torre Annunziata. Questo hanno trovato i carabinieri della locale compagnia durante un servizio di controllo, svolto nel quartiere Penniniello della città Oplontina. Sulle pareti decine di fori di proiettili. Un luogo usato verosimilmente per testare le armi da fuoco nelle mani della criminalità organizzata. In un vano ricavato tra i mattoni, trovate anche 40 proiettili a salve. I militari hanno battuto tutto il rione, ma è sempre nella scuola che hanno trovato 200 grammi di marijuana, con relativo materiale per il confezionamento della droga in dosi e quattro bilancini di precisione. Numerosi anche i controlli per il rispetto del codice della strada. Tre le patenti ritirate e sequestrato un veicolo. Denunciato un diciassettenne per ricettazione, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di una bicicletta elettrica rubata. Nota positiva, l'incontro dei carabinieri nell'ambito del programma Cultura della Legalità. È avvenuto in una scuola piena di studenti e di vita, dove i militari hanno raccontato il loro lavoro con lo scopo di infondere nei più giovani sani principi. L'obiettivo è far comprendere ai ragazzi responsabilità e consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, con particolare attenzione al web e alle sue insidie.